Buonasera a tutti, ben ritrovati. Sono felice di rivedervi dopo la pausa natalizia. Ad essere sincero mi sono un po' mancati questi incontri, soprattutto il fatto di poterci incontrare insieme e proseguire per questa conoscenza di questa realtà così bella. Perché vedete, per quanto uno diciamo le cose già le sa, però ritornarci sopra è sempre affascinante, perché come in tutte le cose scopri sempre qualcosa di particolare. E non so se capita anche a voi, anche così con la parola di Dio. Molte volte dice, beh è sempre quella, anche la messa è sempre quella. Però quando poi più capisci, più conosci, più ti affascina. E ci sono anche molti volte dei particolari che erano già così sotto i tuoi occhi che non ti rendevi conto. Così come stiamo cercando di capire, di vedere quando arriveremo a quella famosissima domanda perché celebriamo le Eucharistie e quindi la risposta, e ci renderemo conto che veramente ogni domenica, ogni celebrazione, l'abbiamo sempre ascoltato quella risposta, però già abbiamo mai fatto caso. E adesso pian piano vogliamo farci caso. Allora, se noi ci facessimo una domanda, perché il Signore ad un certo punto nel suo liberissimo disegno ha scelto di comunicarsi a noi, da quello che abbiamo detto e letto nella De Verbo numero 2, abbiamo visto che il Signore ha scelto di comunicarsi perché vuole renderci partecipi della sua vita divina. Quindi la vita divina è Dio stesso. Quindi Dio vuole renderci partecipi della sua stessa vita. Questo è il grande mistero. E viene chiamato mistero non perché sia qualcosa di incomprensibile, appunto, questo è un mistero. No, ma è proprio il fatto che è un mistero questo fatto. Cioè che Dio, che non ha bisogno di niente, di nessuno, però decide di comunicarsi a noi. E in questo comunicarsi, in questo dirsi a noi, dice tutto se stesso, da tutto se stesso. E questa rivelazione che è avvenuta nei secoli, è avvenuta nei tempi, è avvenuta nei vari momenti, nell'Antico Testamento l'abbiamo vista soprattutto poi nei profeti. Questa rivelazione raggiunge il suo punto centrale massimo in Gesù Cristo, che è chiamato la pienezza della rivelazione. Si legge nella scrittura, Dio che aveva parlato ai padri, scusatemi, si legge nel documento della Chiesa? No, nella scrittura. Dio che ha parlato ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente ha parlato a noi per mezzo del figlio, che ha costituito erede di tutte le cose. Quindi Gesù Cristo è la pienezza della rivelazione. Ora, noi partendo dalla geni, abbiamo visto una cosa. Che in questo progetto realizzato, voluto da Dio, la corrispondenza dell'uomo non sempre c'è stata. Dio si propone, l'uomo accetta, ma poi non sempre riesce a corrispondere alla proposta che Dio gli ha fatto. Abbiamo visto che in tutta l'economia dell'Antico Testamento, e quindi anche per gli ebrei ancora oggi, c'è un evento a cui gli ebrei fanno riferimento, come l'evento di fondamentale importanza. Ed è il passaggio del Mar Rosso, dove per l'ebreo significa l'effettiva liberazione da una condizione di schiavitù a una condizione di libertà. Quindi Israele è schiavo in Egitto, Dio decide di scendere e liberare il suo popolo. Questa liberazione avviene attraverso una realtà anche rituale, quindi attraverso dei riti che Israele dovrà fare e poi dovrà riprendere, attraverso questa realtà rituale e attraverso l'azione reale, Israele passerà dalla schiavitù alla libertà. Questo passaggio è indicato attraverso l'evento a cui Donesso ci richiamava, l'evento del passaggio del Mar Rosso. Dove il Signore attraverso quella scena, che nei nostri occhi e nella nostra immagine lì è qualcosa di grandioso, apro parentesi e la chiudo subito, non è vero che sia stato questo evento così grandioso di questo mare che si è aperto adesso a sinistra questa muraglia ed è passato poi Israele in mezzo. Era un laghetto, sì e no. E quindi dicevo, dove appunto questa realtà di questo passaggio è indicato proprio attraverso il segno del passaggio di questo mare. Abbiamo visto che il passaggio del Mar Rosso è legato inscindibilmente a un evento che avviene la sera prima, l'ultima cena in Egitto. L'ultima cena in Egitto e il passaggio del Mar Rosso abbiamo visto la volta scorsa che sono legati l'uno all'altro. L'uno dice riferimento all'altro, non può esistere l'uno senza l'altro, anzi non si capirebbe l'uno senza l'altro. Abbiamo visto e abbiamo detto che questo è l'evento centrale, è fondatore di tutto l'Antico Testamento. anticipato dall'ultima cena in Egitto e poi, sempre come leggiamo nel libro dell'Esodo, quando il Signore dà tramite Mosè le indicazioni, c'è un'altra realtà che fa riferimento alle celebrazioni che avverranno nei secoli e queste celebrazioni che avverranno nei secoli fanno appunto riferimento nei segni rituali dati la vigilia, tramite il riprendere questi segni, Israele in pratica realmente si ritroverà a passare il mare. Perché abbiamo detto, vi ricordate, che è vero sì che attraverso il passaggio del Mar Rosso Israele passa dalla condizione di schiavitù alla condizione di libertà. Però abbiamo anche detto che quando poi Israele enterrà nella terra promessa, Israele non è che sarà indefettibile. Israele continuerà a peccare. Anzi, basterà veramente poco. Appena passato il Mar Rosso, subito ritornerà col pensiero in Egitto. Perché vi ricordate quando dovrà attraversare il deserto e lo passerà per 40 anni e dirà, ah, almeno in Egitto lì un poco di pasta la tenevamo. Ah, almeno lì mangevamo le cipolle. Adesso in questo deserto non abbiamo niente. Questa manna, quando questo signor farà scendere, dice, è un cibo così leggero. E noi non riusciamo a sopportarlo. E quindi ogni due, tre, sempre nel confronto di Mosè. Mosè perché ci ha fatto uscire dall'Egitto, almeno lì stiamo bene. Vedete, una realtà nuova che può sfuggire alla nostra comprensione ci fa rimpiangere una realtà vecchia nella quale stavamo male, però pure in quel stare male comunque ci stavamo bene. E quindi rimpiangere quella realtà. Quindi quando Israele, ripeto, si troverà di là, si troverà ancora a peccare. Quindi ritornerà idealmente nella schiavitù dell'Egitto e siccome questo passaggio è unico e ripetibile, il Signore stesso ha dato quell'ordine di iterazione quando ha detto la celebrerete questa festa come un memoriale perenne, di generazione in generazione. Quindi ogni generazione, compiendo ciò che è stato fatto qui quella sera, compiendo quel gesto, in pratica si ritrova a passare veramente, realmente, non fisicamente, noi adesso siamo un atto termine, sacramentalmente il passaggio del mare. Quindi sacramentalmente che significa? Che veramente e realmente quella realtà ci è data, anche se non fisicamente. Facciamo anche l'esempio di una volta scorsa, ho vinto tutto l'altro, i soldi non mi sono ancora arrivati, però i soldi già sono i miei. Quindi abbiamo, volendo schematizzare, l'ultima scena in Egitto, che è un segno profetico, perché in quel segno di prendere il sangue, porre su gli stipi tra chi trave la porta, poi prendere l'agnello, sgozzarlo, gli azimi, le erbe amare, sono segni profetici che dicono qualcosa, ricordate, il segno non esaurisce la sua verità e realtà in se stesso, il segno è sempre un riferimento, un rimando ad altra cosa. Quindi quei segni sono irripetibili, ciò che è successo lì in Egitto. Poi c'è il passaggio del Mar Rosso, quindi questi segni qui fanno riferimento al passaggio del Mar Rosso, quello che verrà effettivamente il giorno dopo. Però abbiamo detto che già qui, nel momento in cui mangeranno quell'agnello, grazie al sangue, quando passerà l'angelo sterminatore, passerà su quelle case, e quindi loro non moriranno più, saranno già effettivamente liberi. Quindi ciò che qui sarà fisicamente, già qui è avvenuto realmente. Quindi già quando stanno in Egitto, in quell'ultima cena, non sono più schiavi del Faraone, ma già dal Faraone sono passati alla libertà del popolo di Dio. Inoltre però, questo segno qui, oltre ad avere un riferimento al suo futuro immediato, ha anche un riferimento al suo futuro lontano. Quindi alla celebrazione delle pascole, che saranno celebrate poi successivamente. E questo è ripetibile. Questo è ripetibile. Irripetibile, questo è ripetibile. Quindi gli ebrei fanno questo oggi. Poi vedremo quali sono le realtà rituali che gli ebrei fanno oggi. Vi ricordate, abbiamo visto che in quell'ultima, quando celebrano la Pasqua, il figlio più piccolo deve rivolgere questa domanda al suo genitore, al suo papà. Perché questa notte deve essere tutte le notti? E papà fa una sorta di catechesi. Dice perché ogni generazione siamo noi stessi che stavamo lì. e quindi anche noi siamo stati liberati, siamo noi ad essere liberati. Poi ci siamo fatti questa domanda, ma si tratta di una ripresentazione o di una rappresentazione? Cioè, quello che avviene durante la celebrazione, stiamo parlando degli ebrei non è ancora la nostra, non è la nostra messa. Gli ebrei, quando celebrano, rappresentano il mistero pasquale o viene ripresentato a loro il mistero pasquale? E abbiamo detto che viene ripresentato a loro il mistero pasquale. Perché l'evento sta lì e non si muove. Quindi nella celebrazione rituale, compiendo quei gesti, prendendo quei segni, loro sono sacramentalmente, quindi veramente, realmente, ripresentati lì, in Egitto e vicino al Mar Rosso. Anche se fisicamente stanno nelle proprie case, celebrare la Pasqua sacramentalmente, cioè veramente e realmente, grazie ai segni che pongono in essere, vengono ripresentati. Domanda che poi la faremo anche dopo. Se quei segni non vengono presi, se quei segni non vengono posti in essere, sono ripresentati? Secondo voi? Eh, però anche se stanno celebrando. Comunque stanno in un contesto celebrativo. E se quei segni non li pongono in essere, quindi non vengono ripresentati. Quindi non c'è una ripresentazione. io posso stare anche in chiesa, vedremo dopo. Partecipo alla celebrazione, ma se quei segni non li pongono in essere, io non sono ripresentato all'evento unico e fondatore della nostra salvezza. dice, però io però partecipo. No. Per noi cristiani, mi disse la volta scorsa, prendiamo di vari basso e mettiamo adesso di qua e ci lasciamo qui, se vi ricordate. Adesso vediamo schematicamente cosa succede appunto per noi cristiani. Noi sappiamo che l'evento centrale del Nuovo Testamento, qual è? Non so. Teniamo... Dobbiamo tenere insieme il mistero. Perché altrimenti presentiamo un aspetto del mistero che non è quello completo. Diceva Santo Agostino che Cristo è morto, tutti lo credono, ma che si è risorto e solo noi cristiani crediamo in questo. Quindi noi dobbiamo affermare, perché questa è la nostra fede, il crocifisso che è risorto. Quindi è Cristo morto e risorto. Questo noi crediamo e questo affermiamo. Quindi noi non andiamo dietro a morto, andiamo dietro a morto che è risorto, che cambia tutto. Questa è la cosa diversa. Quindi, perché se fosse solo risorto potrebbe essere un fantasma. Solo morto è un cadavere, ma che è il morto che è il risorto. Tante vi ricordate quando poi apri agli apostoli, dirà, sono proprio io. Vedete, toccatemi. E fece vedere il segno dei chiodi. E a Tommaso, metti qui, non essere più incredulo, ma credente. Quindi per dire, sono io, cioè, quello lì che voi avete visto l'altro giorno sulla croce, muovi e sta davanti. Quindi non è qualcun altro che vi sta davanti. Quindi, l'evento centrale del Nuovo Testamento, appunto, è la morte e la risurrezione di Gesù, che è avvenuta, atteniamoci alla tradizione, va bene? Il venerdì santo dell'anno 33. Però siccome siamo adulti, noi la qua stessa la diciamo così, tra parentesi, probabilmente è venuto nell'anno 30, non nell'anno 33. E quindi Gesù probabilmente non aveva i famosissimi 33 anni, erano poco poco più grandicello. Quando è successo poi, quello che è successo. Però, alla nostra vita non cambia niente. Se nei 33 o 35, non cambia niente. Quello che è importante è questo fatto. Quindi, alla tradizione, quindi Gesù nell'anno 33, di cui venerdì santo, Gesù è morto. Nei tre giorni è rimasto in esse porco, il calcolo, adesso lo lasciamo stare, ma sono tre giorni, sono due giorni e mezzo, due giorni e mezzo, perché il calcolo ebraico è un po' diverso, va dall'alba all'alba, a tramonto a tramonto, e quindi tre giorni poi si trovano. È morto, e il tetto giorno, appunto, è risolto, secondo il riferimento l'edato critturistico. Quindi, l'evento centrale è la morte e la resurrezione del Signore. E abbiamo questa scena qui, così ce la mettiamo davanti ai nostri occhi, come per l'Antico Testamento. L'evento centrale è il passaggio del Mar Rosso, Mosè che sta lì, apre il mare, e poi il popolo cammina. Qui, l'evento centrale è la morte e la resurrezione di Gesù. Anche qui, come di là, ci facciamo la stessa domanda, in che rapporto sta l'ultima scena di Gesù con gli Apostoli, con la sua passione e resurrezione. Anche qui ci facciamo la domanda, hanno mangiato perché la sera bisognava cenare, e quindi era una scena come tutte le altre? Oppure, effettivamente, questa cena, quell'ultima, lì nel cenacolo, dice qualcosa in riferimento a quello che Gesù poi avrebbe fatto il giorno dopo? Chiaramente, la risposta, già lo sappiamo, quella cena è tutta in riferimento a quello che Gesù avrebbe fatto, appunto, il giorno dopo. Quindi, l'ultima cena è teologicamente inseparabile dalla morte e risurrezione. Quindi vuol dire che per capire la morte e risurrezione, io devo capire l'ultima cena, per capire l'ultima cena devo capire la morte e risurrezione. Una illumina l'altra, una chiarisce l'altra. perché guardate, se non fosse così che l'una chiarisce e fa riferimento all'altra, significherebbe che qualcosa che riguarda solo Gesù non riguarda la Chiesa. Quindi noi ci troveremo a contemplare un mistero di Gesù per quanto è bello che è molto risolto, però è qualcosa, una realtà che riguarderebbe solo lui. Dice, oh che bello, però intanto noi restiamo a bocca asciutta. E noi invece, è qualcosa che riguarda anche noi, perciò l'una dice riferimento e li mando poi all'altra. Allora, noi abbiamo l'ultima cena che in tal modo diventa il segno profetico dato alla vigilia. Quando Gesù si troverà lì nel Cenacolo, vi ricordate? Però Gesù nel Cenacolo, sapete che cosa fa in pratica lui? Fa la cena che facevano gli ebrei. Lui fa ritualmente le stesse azioni che facevano gli ebrei nelle loro cene pasquali. Quindi, da un lato l'ultima cena di Gesù è una cena ebraica, pasquale. Poi a un certo punto Gesù, mentre pronuncia quelle frasi, quelle parole, previste per la cena pasquale ebraica, a un certo punto dice una novità. Dice una parola che non c'era in quella pasquale ebraica e secondo me qual è quella parola che lui aggiunge? questo è il mio corpo e questo è il mio sangue. Qui è la novità. Qui diventa la prima cena pasquale cristiana attraverso quelle parole questo è il mio corpo questo è il mio sangue. Quindi Gesù celebra ritualmente la celebrazione pasquale ebraica. Poi aggiunge queste parole. Provate a immaginare un attimo gli apostoli che cosa avranno capito? Oppure hanno detto ma questo che sta dicendo? abituati anche loro come abituati noi a celebrare ritualmente la Pasqua. Quindi prese il pane lo spezzò lo diede il vino. Quindi il pane e il vino sono segni profetici perché Gesù a un certo punto dice questo è il mio corpo spezzato per voi e il mio sangue versato per voi corpo e sangue indicano vita la traduzione giusta veramente dice il testo è il mio corpo che sarà spezzato per voi è il mio sangue che sarà versato per voi perché quando è che il corpo sarà spezzato e il sangue sarà versato? Il giorno dopo il venerdì noi stiamo ancora il giovedì però quindi Gesù il giovedì dicendo questo è il mio corpo che sarà quindi domani sarà spezzato è il mio sangue che domani sarà versato prendetelo e mangiatelo e prendetelo e mangiarlo significa che cosa? Che si entra in comunione attraverso quello che tu stai mangiando perché quello che tu mangi diventa segno poi di comunione con il mio corpo con il mio sangue cioè con l'esistenza mia con la mia vita quindi facciamo anche attenzione quando noi facciamo la comunione noi non semplicemente entriamo in comunione con Gesù con suo corpo sangue e anime di vita ma entriamo in comunione anche con il senso e significato della vita di Cristo cioè tutto quello che Cristo ha voluto significare con la sua vita vedete diventa come riassunto qui nel corpo dato quando lui ha staziato gli affammati con la moltiplicazione dei pani quando lui ha benedetto i bambini quando lui ha perdonato quando lui ha subito le offese cioè tutto questo noi in tutto questo con tutto questo noi entriamo in comunione quindi è tutta la vita di Cristo nella quale noi entriamo facendo la comunione non semplicemente Gesù che sta in paradiso quindi con Gesù con il Cristo risorto entriamo in comunione anche con il Cristo morto e quindi voi capite allora anche la situazione e condizioni che posso vivere in un momento particolare entrando in comunione con quella realtà con quella potenza che è sempre di morte e risurrezione ecco perché è importante vedete lo dicevamo quando parliamo della liturgia della parola la liturgia della parola che noi ascoltiamo getta luce poi sull'altare cioè quel mistero particolare è vero che sull'altare abbiamo tutto Cristo però quella parola che abbiamo ascoltato quella parola lì in modo particolare con la quale noi entriamo in comunione se voi ci fate caso sul foglietto che in chiesa troviamo oppure sull'antifona che viene cantata la comunione l'antifona fa riferimento al Vangelo di quella messa però per farci capire ecco mentre siamo accentuando la comunione col canto di quell'antifona ci fa capire ecco il mistero di Cristo in questo momento che oggi in modo particolare ci viene ripresentato nella liturgia noi stiamo dicendo che fa la comunione Gesù viene nel mio cuore quindi il segno profetico è dato la vigilia il giorno dopo la morte e la risurrezione appunto è l'evento fondatore quindi Gesù effettivamente il venerdì col sabato e la domenica la liturgia dice che è un solo giorno il frito pasquale la liturgia lo vive come un solo giorno quindi questo solo giorno è quello che effettivamente ci salva noi siamo salvati dalla morte e la risurrezione di Gesù però noi non possiamo entrare in comunione con la morte e la risurrezione di Gesù noi non possiamo essere messi in croce moriamo ed andiamo in comunione con lui allora c'è data la possibilità di entrare in comunione con lui attraverso questi segni che noi riprendiamo durante le nostre celebrazioni perché nella celebrazione che cosa c'è nella celebrazione come è formulata l'ascolto della parola e il rito sacrificale con la comunione quindi attraverso queste due realtà ascoltando la parola e facendo il sacrificio e facendo la comunione noi entrambi in comunione con questa realtà di morte e risurrezione mi è chiaro questo passaggio sì tutti quanti sicuro voi faccio una domanda Gesù secondo voi ha fatto la comunione anche lui sì o no? qualche no e qualche sì e ha fatto la comunione per lui è perché anche lui è perché anche lui qui in questo momento anche lui facendo è passato già davanti al volto del padre ecco perché in Getsemane ha potuto dire padre sia fatta la tua volontà perché già comunque si è ritrovato in quell'abbandono davanti al padre e gli apostoli facendo anche loro la comunione anche loro nel segno pure loro già sono passati di qua esatto perché guardate tutte le volte tutte le volte che Cristo interviene c'è sempre salvezza sempre vedete miracoli vedete tutto tutte le volte che Cristo si avvicina perché? perché lui è la salvezza è come quando davanti al fuoco se tu ti avvicini al fuoco ti bruci se ti avvicini a Cristo la salvezza ti arriva poi il problema è quando ti allontani da Cristo è il problema tuo poi sei tu che ti allontani da Cristo e quindi esci fuori dal giardino delle delizie sei tu è perché tendi a stendere quella mano non cogliere più il dono ma voler usurpare poi quel dono e quindi ti poni al di fuori della realtà appunto della salvezza quindi si richiama novecento l'uno in funzione dell'altro e va bene quindi nel segno del pane e del calice dato la vigilia Gesù profeticamente annunzia e salvificamente compie il mistero della sua morte vicari attenzione a queste parole perché profeticamente dice che lui sta per morire però salvificamente la compie già quindi nel segno del pane e del calice e del vino che ci è stato dato la vigilia la notte in cui fu tradito e gli presi il pane Gesù profeticamente annuncia domani il mio corpo che sarà spezzato il sangue che sarà versato però la salvezza già si realizza mentre stanno celebrando la Pasqua l'ultima cena nel Cenacolo quindi segno profetico della vigilia l'ultima cena morte e risurrezione sono unico e inseparabile evento di salvezza ora però a un certo punto dice fate questo in memoriale di me che cosa noi facciamo in memoriale di lui la morte e risurrezione noi prendiamo Gesù e lo inchiodiamo sulla croce durante le celebrazioni no durante le celebrazioni noi prendiamo il memoriale se questo è l'evento unico quando noi in pratica celebriamo noi che cosa prendiamo? prendiamo questo non prendiamo questo perché prendendo questo noi stiamo qui perché questo noi non lo possiamo prendere sapete perché? perché questo non entra nello schermo è al di fuori della storia adesso non è più nella storia di Marros esatto evento unico e ripetibile quindi noi prendendo questi segni qui che lui ci ha dato nei segni dove lui profeticamente annuncia la sua morte e salvificamente realizza la salvezza nei segni anche noi siamo ripresentati qui quindi anche se stiamo a Cassandrino nella comunità parrocchiale o in qualsiasi parrocchia di questo mondo in una cappella dove volete attorno ad un altare e stiamo celebrando anche se i nostri piedi si trovano lì in quel territorio particolare ma i nostri piedi teologici si trovano qui nel cenacolo e ci troviamo sul calvario e vicino alla tomba e assistiamo che vuota insieme a Maria e alle donne capite che mistero che cosa grande da qui capiamo no? com'è possibile ad un certo punto essere distratti che ci possa essere un pensiero diverso che ti possa prendere in questo momento poi lo vedremo la liturgia guaristica inizierà con una fase particolare la vedremo perché poi analizzeremo il Signore sia con voi noi spondiamo poi che dice sacerdote in alto è qui in alto i cuori dice ogni padre della chiesa la messa bisogna stare sempre attenti però ammettiamo che finiamo è stato distratto va bene ma in questo momento non può essere non ti è permesso di essere distratto quindi in alto i cuori c'è quella tensione che ora devi creare per questa realtà così grande che sta per accadere quindi vabbè finiamo siamo poco distratti in questo momento non possiamo essere distratti appunto per questa realtà di questa realtà misterica ma misterica non perché ripeto misterica nel senso proprio di salvezza che è questo mistero così grande allora pure qui abbiamo evento unico fondatore ripetibile il segno che è dato la vigilia dei ripetibili e ha un suo riferimento immediato al venire di santo ma nello stesso tempo anche un riferimento alle celebrazioni della Pasqua cristiana che è il rito ripetibile quindi pensate quando Gesù ha studiuto questo in quella sera ha pensato pure a noi che stiamo qui oggi perché anche noi dobbiamo vederci ai piedi lì e anche noi una volta che poi passiamo quindi facciamo la comunione e passiamo da questo mondo al padre veramente realmente ma non fisicamente quando poi stiamo di qua ci troviamo ah come stiamo bene in Egitto eppure noi ritorniamo in Egitto cioè anche noi ritorniamo sotto la schiavitù del peccato allora che fa restiamo di qua no quindi attraverso il rito ripetibile noi ritorniamo di nuovo qui grazie al segno profetico che è dato la vigilia mettiamola da parentesi questo qua per adesso perché qui c'è tutto chiaramente la confessione la vedremo no non è fondamentale fondamentale è questo la morte e risurrezione in questa morte tanto è vero che se una quando si battezza un bambino o anche si battezza un adulto non è chiesta la confessione anche se si battezza un adulto è così perché perché nel momento in cui sono battezzato io sono immerso inserito nella morte e risurrezione di Gesù oltre questo non c'è più nulla una volta che mi trovo di qua devo prima trovarmi di qua da qua ritornare qui allora ho bisogno della confessione perciò dicevo bisogna dobbiamo capire poi perché noi pensiamo il fatto della confessione è certo è vero che io per accedere alla comunione sacramentale devo stare in stato di grazia quindi mi devo confessare però non leghiamo la confessione e la comunione cioè mi devo confessare perché ho peccato perché in un momento dice così ma ci confessare perché ma ci fa comunicazione no io mi devo confessare per stare in stato di grazia e quindi poter accedere alla comunione però devo stare in stato di grazia perché ho bisogno dello stato di grazia Alcune domande su questa parte qui? Nessuna domanda? Non riguarda i discorsi che stavamo facendo. I discorsi della Chiesa chiamavano la confessione la seconda tavola, perché la prima tavola appunto è il battesimo. Quindi è il battesimo che toglie tutti i peccati. Il battesimo è la porta. Se non c'è quello non c'è niente. Esatto. Poi una volta ricevuto il battesimo io dovrei vivere in stato di grazia. Non riuscendo chiaramente a vivere gli impegni del battesimo, ecco che il Signore ha predisposto anche il sacramento della riconciliazione dove si rinnova in me la grazia battesimale. Ora noi ci facciamo questa domanda. Ma in che modo il segno dato alla vigilia, l'ultima scena in Egitto, dell'evento fondatore del passaggio di Mar Rosso intervenga nell'azione rituale? Cioè in pratica, in che modo quando l'ebreo celebra ritualmente la Pasqua, in che modo quel segno dato 4.000 anni fa possa intervenire mentre loro stanno celebrando oggi? Come anche noi ci dimondiamo, ma in che modo il pane e il vino che Gesù ha dato nella vigilia della sua morte e risurrezione? Quindi in quel modo quel segno interviene oggi nell'azione che sto celebrando. È una cosa magica? Il prete fa una formula di magia, si messa la bimba e si realizza? Oppure c'è una realtà, un modo, un metodo affinché ciò avvenga? Chiaramente c'è tutta una dinamica affinché ciò avvenga. Allora, gli ebrei, quando c'è la loro Pasqua, hanno soprattutto questi due momenti. La Pasqua è composta da un'azione sacrificale, cioè delle azioni rituali, che sono l'agnello che viene emolato e il sangue di questo agnello che viene spasso, come abbiamo visto, vi ricordate. Poi che fanno? L'agnello viene mangiato. Prima di mangiare questo agnello, in pratica c'è una sorta di liturgia della parola, dove vengono fatte delle domande rituali, c'è delle letture bibliche e la spiegazione di queste letture. Quindi questa è la Pasqua ebraica, quindi gli ebrei celebrano così la Pasqua. Quindi c'è un'azione sacrificale e un'azione conviviale. Sacrificano e mangiano questo mangiare preceduto da alcune domande rituali, delle letture e spiegazioni. Sedite un po' la nostra liturgia della parola. Noi le domande rituali non le teniamo, però abbiamo letture, che possiamo chiamare omelia. La Pasqua cristiana, quindi la Pasqua dominicale, è data da che cosa? Abbiamo un formulario orrazionale, che è la preghiera equaristica, che vedremo, e la manducazione delle specie, la comunione. Quindi vedete, in un certo qual modo ci troviamo, stiamo un poco qui. La liturgia della parola noi la teniamo, sapete, come primo aspetto della liturgia. Abbiamo visto l'anno scorso la liturgia della parola e poi abbiamo la liturgia eucaristica. Quindi abbiamo una preghiera che viene fatta, il Signore, se come voi andate i vostri cuori, è veramente cosa buona e giusta, il nostro dovere, qui inizia la preghiera eucaristica. E abbiamo il fatto che bisogna mangiare. Vedete, ciò che costituisce la Pasqua dominicale è il mangiare le specie equaristiche. Quindi se le specie equaristiche non le mangio, io la Pasqua non la sto celebrando. E se non celebro la Pasqua, io resterò di qui, di là non passo. Capite? Anche se sto in chiesa, però sto qui, non sto di là. Dice, però io non ho commesso nessun peccato, sei stato di grazia. Sto qui, non sto di là. Io per andare di là devo mangiare, necessariamente, per entrare in comunione con la sua morte e risurrezione. Come avviene, siamo fatti, quella domanda che abbiamo letto da sopra? Attraverso un formulario di preghiera che in ebraico si chiama Todà. Todà, questa parola significa confessare, esaltare, celebrare, riconoscere, magnificare, lodare, essere consapevoli. Questo significa Todà. Quindi in pratica la Todà è una preghiera dove l'orante, colui che fa questa Todà, riconosce, confessa, manifesta una determinata cosa. Questa cosa determinata che l'orante celebra, manifesta, riconosce con la Todà è la grandezza di Dio e la non corrispondenza dell'uomo a questa grandezza di Dio. La Todà ha una struttura particolare. È divisa in due parti. Una parte nell'essere formulata e all'indicativo, mentre un'altra parte è all'imperativo. Quindi c'è l'indicativo dove c'è una storia che viene raccontata, che viene narrata. Nell'indicativo, nell'imperativo, c'è una domanda che viene fatta. L'orante, quando fa questa preghiera, questa Todà, dice una cosa, raccontando, narrando questa cosa, e dall'altro lato, dopo che ha raccontato, ha narrato questa cosa, può dire, ora, adesso, quello che ti domando me lo devi dare. Nel certo punto, la preghiera è questa che diciamo, Padre, veramente santo, manda il tuo spirito. Il sacerdote lo sta... Manda. E non sta dicendo, se vuoi, mandaci lo spirito. Manda il tuo spirito, affinché il pane e il vino diventi corpo, quindi è una richiesta che sta facendo. Nell'indicativo, in questo narrare, che cosa c'è? C'è la storia del passato. L'orante fa, un termine tecnico, anamnesi. In pratica, l'orante, rivolgendosi a Dio, al Padre, racconta una storia del passato. In questa storia del passato, l'orante fa presente una storia che, fra lui e il popolo, c'è stata una relazione, un'alleanza. In forza di quella storia, di quell'alleanza, dove lui dice tu è vero che hai fatto questo, ed è vero che noi questo non l'abbiamo fatto. Però tu hai fatto questo, è vero che noi quest'altro non l'abbiamo fatto. Però, in forza di quell'alleanza che tu hai stipulato con noi, perché tu ci hai scelti, tu ci hai fatto uscire dall'Egitto, tu ti sei legato a noi, in forza di questa alleanza, ora intervieni di nuovo a nostro favore. In pratica, se Petro l'orante cosa fa, una sorta di capatazio benevolentia. Il sindaco del mio paese è un amico di mio padre. Io in modo da sindaco voglio un piacere. Non posso andare e te lo dire, sindaco, fammi questo piacere, perché lui mi potrebbe dire di no. Ora che cosa faccio? Dico, sindaco, ricordate quando voi e mio padre eravate ragazzi e insieme andate a fare in Marachella, andate a giocare? Voi avevate andato pure a casa mia, io ero bambino, me lo ricordo. E quante volte pure vicino a me così mi avevo dato un pizzicotto, così non avevo pure addirittura, mi avevo portato pure un regalo. E' vero, è stato poco attivo nei nostri confronti, perché poi così, però voi e mio padre proprio siete voltando bene. Quindi il sindaco dice, gli narro una storia che lui ha vissuto nei confronti di amicizia con mio padre. E poi all'improvviso gli dico, sindaco, in nome di quell'amicizia che ha detto mio padre, me lo fa un piacere. Capite? La mia domanda, io affinché possa essere esaudito, la devo appoggiare su qualcosa, la mia domanda, perché all'improvviso non appoggiare su che cosa. Cioè che titolo ho io per dire al sindaco di farmi quel piacere? Nessun titolo. Invece appoggiando la richiesta su una storia, una relazione che lui aveva con mio padre, allora sì che posso formulare la richiesta convinto anche di poter essere esaudito. Perché sentite, quando il sacerdote dice, padre, mandi il tuo spirito, non è che il Signore manda lo spirito perché noi siamo belli, io trovo una bella faccia perché siamo stati santi in quella settimana. Perché prima, nel formulario che noi non ci facciamo caso, il sacerdote, il Signore, racconta una storia di relazione dove gli ricorda quello che lui ha fatto a favore dell'umanità. E quindi, siccome lui dell'umanità abbiamo visto, non se ne può dimenticare, e l'umanità grida verso di lui, lui ascoltando il grido di quell'umanità in forza di questa relazione che lui ha stipulato, lui interviene. Fateci caso, in tutte le preghiere è così, anche nel Padre Nostro è così, noi al Padre Nostro la richiesta che facciamo qual è? Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Parliamo di dire quello, che cosa gli diciamo? Padre Nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, permettetemi l'espressione, tra virgolette, e a bassa voce, così non mi sentono di là. È come se noi ci stiamo ruffianando Dio. Come fa il figlio vicino al papà quando è piccolo? Dice, papà, tu sei bellino, come vuoi bene così? O padre, non capisce più niente, si rimbambisce davanti del figlio, che vuoi, e va bene, ok. Potremmo dire, ma Dio è così rimbambito? No, Dio non è che è così rimbambito, però come abbiamo visto e come vedremo poi durante il ritiro, c'è quella realtà in Dio, che il Paolo Francesco nel titolo del suo libro avete visto, il nome di Dio è misericordioso. Poi qui, tiene una cosa che gli piglia qui e questa cosa che gli piglia qui. Alla mamma tu non lo puoi comandare e dire no, la viscere non mi possono prendere. Quindi, comprende, l'indicativo, la storia del passato, è l'ingiunzione da cui dipende il futuro della relazione. Questa si chiama, viene chiamata come nome tecnico discorso anamnetico celebrativo, perché appunto io faccio anamnesi, l'anamnesi è un ricordo, fateci caso, come se ando al dottore, no? Tu lo dici così, facciamo la cartella dell'anamnesi, che malattia hai avuto i tuoi genitori che malattie, e quindi si risale un poco così indietro. Quindi facciamo anamnesi, ricordo, però a livello celebrativo facciamo questo ricordo. Quindi, celebrando, esaltando, riconoscendo, ecco, totale, dove, dico solo, non dico solo le cose buone, dico pure cose negative. Di qua, il discorso epicletico, epiclesi, noi lo identificiamo come termine tecnico l'invocazione dello spirito, però il termine epiclesi, epicletico, significa gridare verso. Quindi in pratica, noi qui, l'orante, grida verso, per ottenere l'ingiunzione che è stata la richiesta, perché prima ha fatto l'anamnesi, ha celebrato e ha lodato. Qui si articola il discorso dell'alleanza. Quindi l'alleanza, come abbiamo visto con Abramo, vi ricordate, con Mosè anche nei vari scenari dell'alleanza dell'Antico Testamento, è possibile perché c'è questa storia che narro, storia di fedeltà da parte di Dio e di non fedeltà da parte dell'uomo e quindi la richiesta. Adesso vi presento brevemente alcune preghiere dell'Antico Testamento che fanno riferimento proprio a dove possiamo evidenziare l'atodà. Però, vi ripeto, qualsiasi formulario di preghiere che vi vedete, anche le orazioni collette che noi abbiamo durante la Messa. Tutte quante sono fatte così. C'è una storia di relazione dove si esalta soprattutto il Signore e poi si viene fatta la richiesta. dal libro di Esther. Mio Signore, nostro Re, Tu sei l'unico. Vieni in aiuto a me che sono solo e non altro soccorso all'infuri di Te perché un grande pericolo mi sovrasta. Ho sentito fin dalla mia nascita in seno alla mia famiglia che Tu, Signore, hai preso Israele tra tutte le nazioni e i nostri padri tra tutti i loro antenati come tua eterna eredità e hai fatto per loro tutto quello che avevi promesso. Vedete, Esther sta mettendo davanti al volto di Dio tutto ciò che Dio ha fatto. Dice, vengono a me e te lo sei dimenticato e te lo ricordo. Ma ora abbiamo peccato conto di Dio e ci hai consegnato nelle mani dei nostri nemici perché abbiamo dato gloria ai loro Dei. Tu sei giusto, Signore. Cioè, dice Esther, signore, vedete, pure nel tono, no? Eh? Ma noi abbiamo peccato. Ma ora non ci sono accontentati i nostri nemici dell'amarezza della nostra schiavitù. Hanno anche posto le mani sulle mani dei loro idoli giurando di abolire il decreto della tua bocca, di stemminare la tua eredità, di chiudere la bocca di quelli che ti lodano e spegnere la gloria del tuo tempio e del tuo altare, di aprire invece la bocca delle nazioni per lodare gli idoli vani e proclamare per sempre la propria ammirazione per un re immortale. Quindi in pratica Esther sta dicendo a Dio, Signore, questi mo ci vogliono far fuori, però se fanno fuori noi, chi ti loda? Perché loro metteranno i loro idoli che sono vuoti. Quindi non avrà nessuno che poi ti loderà se questi ci fanno fuori. non consegnare, Signore, il tuo scettro a quelli che neppure esistono. Non permettere che ridano della nostra caduta, ma volgi contro di loro questi loro progetti e colpisci con un castigo esemplare chi è a capo dei nostri persecutori. Ricordati, Signore, manifestati nel giorno della nostra afflizione e dammi coraggio, re degli dèi e dominatori di ogni potere. Metti sulla mia bocca una parola ben misurata di fronte al leone perché la regina estra deve andare davanti al re a suo ero e deve andare a perrare la causa. Allora lei prima di andare dal re si fida e si affida al Signore. Quindi il re, il leone e il re suo marito in pratica, il re a suo ero. E volgi il suo cuore all'odio contro colui che ci combatte per lo stermino suo e di coloro che sono d'accordo con lui. Quanto a noi, salvaci con la tua mano e vieni in mio aiuto perché sono sola e non altri che te, Signore. Tu hai conoscenza di tutte e sai che odio la gloria degli empi e detesto il vetto dei non circoncisi e di qualunque stagnero. Tu sai che mi trovo nella necessità e che detesto l'insegna della mia alta carica che cinge il mio capo nei giorni in cui devo comparire in pubblico. La detesto come un panno immondo e non la porto nei giorni in cui mi tengo appartata. La tua serva non ha mangiato la tavola di Aman non ha onorato il banchetto terreno e ha bevuto il vino delle libagioni. La tua serva da quando ha cambiato condizione fino ad oggi non ha gioito se non in te il Signore di Abramo o Dio che su tutti eserciti la forza ascolta la voce dei disperati libera la mano dei malvagi e libera me dall'angoscia. Allora, capite? Questa è una preghiera. Lei può dire Signore però perché gli ha narrato tutta una storia quindi la Signore può fare la domanda di essere liberata di avere questa forza perché comunque gli ha raccontato ha narrato ma dice ma c'è bisogno di raccontare e non andare davanti a Dio sì ma non perché lui non lo sappia lui lo sa e noi abbiamo bisogno di narrarlo e di raccontarlo cioè noi abbiamo bisogno di dirlo noi a noi stessi di questa fedeltà sua lui è fedele lo sa noi che ce lo dimediamo allora lo dobbiamo narrare un altro testo Daniele e feci la mia preghiera e la mia confessione to dà a Signore mio Dio Signore Dio grande e tremendo che sei fedele all'alleanza e benevolo verso coloro che ti amano e osservano i tuoi comandamenti abbiamo peccato abbiamo operato da malvagio e da empi siamo stati ribelli ci siamo allontanati dai tuoi comandamenti e dalle tue leggi non abbiamo obbedito ai tuoi servi i profeti i quali nel tuo nome hanno parlato ai nostri rei ai nostri principi ai nostri pati a tutto il popolo del paese a te conviene la giustizia Signore a noi la vergogna sul volto come avviene ancora oggi per gli uomini di Giuda per gli uomini di Gerusalemme e per tutti gli israeli vicini e lontani in tutti i paesi dove tu li hai dispersi per i delitti che hanno commesso contro di te cioè dice la verità l'orante non è che si accende una fosseria dicendo sì effettivamente sì noi abbiamo sbagliato ecco perché ci siamo in questa condizione però tu sei quello che sei Signore la vergogna sul volto a noi ai nostri rei ai nostri principi ai nostri pati perché abbiamo peccato il conto di te al Signore il nostro Dio la misericordia e il perdono perché ci siamo ribellati il conto di Lui non abbiamo ascoltato la voce del Signore il nostro Dio né seguito quelle leggi che Egli ci ha dato per mezzo dei suoi servi i profeti quindi è chiaro il meccanismo moderato da di questa preghiera di esaltazione e celebrazione di confessione e di lode ci fermiamo qui e la prossima volta vedremo la struttura della preghiera equalistica quindi entriamo proprio in quello che sentiamo ogni domenica per bocca del nostro Rante perché tutti questi nove punti qui vedete questi nove passaggi sono la Todà anche se noi non lo sappiamo però sono nove punti la Todà e la prossima volta vedremo perché sono due colonne abbiamo perché questa qui questa struttura qui che poi i punti sono gli stessi vedete prefazio santus post santus racconta Anamani si è piccoli sull'oblate sui comunicanti accessione d'ostologia qua cambiamo in poco in questione queste due parti qui queste sono le preghiere della chiesa orientale gli ortodossi queste della chiesa occidentale cioè quella romana latina la nostra perché la prossima volta io vi farò ascoltare un prefazio di una chiesa ortodossa che è lunghissimo molto lungo e io penso le nostre celebrazioni quando i nostri stanno con l'orologio lì in mano voglio dire qualche volta il prete ha fatto due minuti in più di omelia nell'ascoltare il prefazio di quella preghiera vedete che noi che l'ascolteremo stanno seduti ci stancheremo però per far vedere la ricchezza veramente rispetto ai nostri che sono proprio striminziti sono proprio ridotti proprio al massimo perché la liturgia romana è molto asciutta è proprio sintetica rispetto alla liturgia ortodossa che sapete proprio sono interminabili sembrano proprio che non finiscono mai questo però vedremo appunto la prossima volta io vi do un consiglio per la prossima volta è vero che noi troveremo schematizzato così però se avete internet a casa scaricatevi la seconda preghiera eguaristica perché noi analizzeremo la seconda preghiera perché quella perché generalmente è quella che viene sempre fatta più spesso nelle chiese perché è la più corta e la più breve rispetto a altre che sono un po' più lunghette quindi la seconda preghiera ah seconda perché quella vi esce automaticamente sì questo è quello che diciamo di dire perché davanti effettivamente perché io posso pensare non in quel momento sto pensando un'altra cosa che reputo che sia più importante provate a pensare un attimo ad esempio domenica scorsa abbiamo visto l'acqua in vino uno potrebbe dire ma come se non tanti problemi da fare in questo mondo il signor smette a cambiare l'acqua in vino questo è tutto perché noi effettivamente possiamo credere che ci siano delle realtà diverse che le anteponiamo a Dio ed ecco perché poi nasce la distrazione se effettivamente io parto da casa lo diciamo come deve essere un aiuto cioè se parto da casa già dicendo a me stesso a che cosa sto andando che cosa starò per vivere quella convocazione di ritrovarmi insieme agli altri per celebrare questo mistero celebra un mistero che lui quindi non sono io a celebrare ma è lui che celebra per me per donarmi questa realtà per rendermi partecipe di questo mistero così grande della salvezza e allora vi faccio attenzione vedete l'esempio per quanto anche possa essere banale metà io dico sì venite qua una alla volta che adesso vi do una manciata d'oro a tutti quanti e io faccio attenzione quando vado così quante volte capita per esempio pure la comunione sulla mano e me va così devo guardare se c'è un frammento sulla mia mano se fosse veramente qualcosa d'oro io poi farei attenzione voi fammi rì e guarderei anche a terra se cosa mecca tutto qualcosa involontariamente a terra invece con la realtà di cui siamo abituati noi facciamo più caso l'ho fatto altre volte l'esempio vi ricordate se mi fanno un regalo e io all'inizio faccio attenzione a come lo metto a come lo uso mi regalano l'orologio attenzione a non sbattere faccio così ho telefonini ragazzi poi passa un po' di tempo così tranquillamente lo lancio sul letto lo lancio in copà la scrivania noi così abbiamo ridotto anche la realtà sacra così accessibile ci è diventata che l'abbiamo l'abbiamo poco banalizzata però l'abbiamo banalizzata noi ecco l'ora di potermi ridire questo mistero perché vedete poi la liturgia il mistero comunque ce lo presenta ce lo fa vivere pensate all'uso dell'incenso alle celebrazioni e questo dell'incenso comunque non è per fare la pompa esteriore per far vedere comunque quella realtà anche quella mi aiuta ad entrare nel mistero anche qui da capire l'altare che viene avvolto da questo profumo odoroso e quindi in un certo qual modo vela e svela è così e tu in questa realtà tu entri ci avete fatto caso voi la nebbia c'è e non si vede tu la nebbia la vedi ma quando ci stai dentro tu non la vedi più tu non vedi più niente quando stai nella nebbia però da fuori l'hai vista la nebbia è così in un certo momento anche tu nel mistero tu entri nel mistero è in un certo punto però stai in questa realtà Isaia in un certo punto dice così signore io sono morto perché un uomo dal lago ben pur io sono eppure ho visto il signore il signore interviene con il tizione di fuoco ma non che rubini dice non ti preoccupare perché adesso io ti purifico ecco perché poi puoi stare nella mia presenza ecco perché diciamo confesso a Dio ogni potente ho peccato oppure ci confessiamo per poter stare quella a sua presenza perché la sua presenza come abbiamo detto ci schiaccerebbe altrimenti ma non perché lui ci vuole schiacciare perché noi siamo incapaci non abbiamo la capacità ricordate perciò parliamo dei segni all'inizio con quel lungo discorso che facemmo perché la realtà può accedere a me e a me solo attraverso i segni dato alla vigilia io posso entrare in comunione con la realtà altrimenti non potrei entrare in comunione posso entrare in comunione con la realtà della morte e risurrezione attraverso il segno che lui ha dato legando la sua morte quindi non è semplicemente il pane il pane diventa segno di una realtà altra che però arriva a me attraverso il pane il battesimo arriva a me attraverso quell'acqua perché nell'acqua sono immerso e voi immaginatevi entro nel mare quando sono immerso nell'acqua e qui i semi negati e gumenali fanno bene al battesimo per immersione nella vasca che viene fatta e non come ho detto sempre poche gocce sulla testa del bambino il segno non parla più allora io non capisco più niente effettivamente quando veniva detto la comunione anche al sangue quello è vero perché la comunione al sangue non è che dice tengo un Gesù pieno o più pieno la comunione è fatta anche al sangue al calice dice la pienezza della verità del segno chiedo scusi voglio dire quando io faccio la comunione al corpo quando mangio l'ostia anche il sangue è lì perché nel corpo è presente tutto Cristo nel sangue è presente tutto Cristo ora parliamo della verità dei segni la verità dei segni richiederebbe di farla comunione e al pane e al sangue la verità della pienezza del segno come abbiamo detto altre volte se io ti regalo un fiore non regalo fiori plastica la verità dell'affetto che porta che ti regali il fiore è vero però voi capite se faccia come non è anche al calice e poi ci vuole più tempo si fa più tardi allora si mette tutto in gioco bisogna rimettere e allora siamo disposti a mettere e comunità e i sacerdoti a rimettere tutto in gioco sapete poi che succede diciamo che faccio prima perché noi dobbiamo essere dobbiamo essere chiari e concreti tra di noi poi dice vedete io sono un poco contrario poi alle messe fatte nei gruppi perché la comunità è una però effettivamente poi il gruppo dice che cosa c'è una scelta che ho fatto c'è quella spiritualità nella quale poi mi ritrovo perché poi mi aiuta a vivere anche diversamente quindi lì effettivamente la potete ma io poi l'ho scelto e quindi pur se si fanno due ore però l'ho scelto ho consapevolezza e verrebbe da dire perché lo sta scritto che ha messo deve durare 35 minuti e perciò perciò ho detto chiaramente è un discorso che pure questo richiede tempo anche di maturazione perciò abbiamo detto fin dall'inizio ringraziando Antonio Ernesto che ha avuto proprio l'idea di fare questi incontri di formazione già adesso comunque sono 30 persone 40 persone che già possono pure dire a un'altra persona poi 30 se ognuno lo dice a qualcun altro perché oggi è stato più lungo ma guarda come stare diverso qua così già sono 60 persone che ho iniziato a saperlo chiaramente non sarà domani questo ma se già prospettiamo che sarà tra una decina d'anni io penso che il seme che adesso viene messo porterà frutto poi a condizione che tutti quando insieme contribuiremo poi a lamentare quel discorso che facciamo ricordare la volta scorsa proprio dell'educazione io non so se avete visto il film Quovado quello di Zalun io sono andato a vederlo diciamo che non dice niente di nuovo è tutto scontato però il fatto di aver ripresentato quella cosa poi alla fine c'è una frase che mi ha così colpito quando ricordate fanno quell'offerta quel centro là poi di quell'ospedale lì laggiù e lui sì e allora a un certo punto poi dice così quando il sacerdote il missionario legge o il dottore se non ricordo la lettera dell'offerta che lui ha fatto e dice così non è né emozione né commozione ma educazione cioè il fatto di fare quel gesto di carità non è che è spinto dall'emozione perché in molte noi ragioniamo con le emozioni ma educazione cioè dovremmo essere tutti educati a aiutare e chi si trova e chi si trova nel bisogno poi lo vedremo con l'opera della misericordia come faremo il ritiro e quindi anche qui noi non ci siamo più educati perché evidentemente perché noi abbiamo smesso di educare dall'altro lato ha fatto piacere che si smettesse di educare e si troviamo nelle situazioni nelle quali stiamo come vedete un po' come a scuola molte volte pare che si ha paura l'insegnante di dover dire qualcosa perché subito come ti permette oppure se dica una cosa un ragazzo si deprime e si va a buttare una coppa a finestra e si scopre le coscienze che se lo portare una volta le realtà educative camminavano insieme si confrontavano insieme e la famiglia e la chiesa e la scuola e la politica ognuno nel proprio mondo ognuno è separato quindi sono delle agenzie dove vado mi servono il certificato e vado mi servono la comunione e vado mi servono la crescita e vado mi servono il certificato a scuola mi servono il diploma e vado quindi proprio quel minimo che mi serve e basta finire quindi dicevo qualche meditate gente meditate qualche è una pubblicità di qualche anno fa vi ricordate quindi allora facciamo questa realtà veramente ci possa scendere dentro adesso già l'abbiamo detto adesso credo che veramente stiamo cogliendo anche i segni che poniamo come qualcosa in più adesso questo fatto qui della celebrazione stiamo nel centro ormai l'abbiamo detto tutto il centro l'abbiamo proprio colto appunto di questa realtà di questa realtà di questo paradiso vedete nel quale comunque noi entriamo ogni celebrazione noi il paradiso già ci è anticipato quel fuoco che veniva detto effettivamente dentro quello poi è veramente così il fuoco ci è dato dentro ci viene messo dentro perché noi con la comunione sacramentale noi passiamo in quella realtà lì del paradiso se è vero che facciamo la comunione che Gesù viene dentro di noi non dimentichiamo quando viene Gesù è il padre dello spirito quindi è la trinità santa che viene dentro di noi e quando noi andremo in paradiso nella pienezza quindi anche quando anche fisicamente faremo quel passaggio della morte quindi il passaggio definitivo noi staremo davanti al volto della trinità che ci è anticipata nella comunione ricordate poi ve lo dissi facciamo la comunione vado a posto mettiamo le mani giunte Gesù tu stai nel mio cuore ti voglio bene ti ringrazio e fai che tutte le mie cose vadano bene non è questo non può essere questo è il momento in cui la comunità si forma la comunità si forma non per questi incontri che noi facciamo la comunità si forma attorno all'altare attorno alla parola e attorno all'equalistia la comunità si forma attorno alla mensa della parola e alla mensa equalistica lì ci formiamo lì cresciamo perché lì diventiamo il corpo di Cristo lui il capo e noi le membra quindi riscopriamo la bellezza di essere membra un altro paio di passaggi che abbiamo da fare bene facciamo un ave maria alla madonna come ringraziamento di tutto perché ecco anche lei ci assiste siamo una parrocchia mariana e allora dedichiamo un ave maria a lei ave maria piena di grazie il signore tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno Gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte il signore sia con voi e benedica dio onnipotente padre e figlio e spirito santo benediciamo il signore buona serata a tutti e grazie grazie a tutti